è stato intercettato dalla difesa del bluipi forex quiglia poi manovra antonelli che riceve palla ora il numero 11 marini marini il tiro ed è subito il vantaggio da parte del me gusta si ha segnato marini mirko marini 1 a 0 unesimo fallo laterale sulla destra palla in mezzo ora per baldassari che col sinistro può provare palla deviata del 2 a 0 dopo cinque minuti baldassari raddoppia subito 2 a 0 per il me gusta si calcio d'angolo dalla destra palla in mezzo a cercare il colpo di testa che però non arriva il pallone comunque capita sui piedi di battistelli che salta un avversario palla sul destro battistelli tiro ed è 3 a 0 battistelli straordinario gol siamo 3 a 0 per il me gusta si dopo sette minuti subito sulla sinistra avanza da quella parte il me gusta si in mezzo attenzione al movimento del numero 10 battistelli che può essere cercato ma trova subito invece la conclusione del gol del 4 a 0 siamo solo all'undicesimo siamo già 4 a 0 per il me gusta si gioca la per raddi palla sul destro lungo lancio c'è stato il movimento di gianni che stoppa col petto gianni davanti al portiere il tiro ed è il 5 a 0 5 a 0 e doppietta personale per francesco gianni il pallone capita ancora sui piedi di col Antonio e alla fine battistelli si ritrova la sfera in possesso battistelli la pallonetto ed è 6 a 0 quando manca un minuto alla fine del primo tempo per quanto riguarda la difesa del me gusta si adesso lungo lancio a cercare antonelli che stoppa al volo antonelli serve battistelli che prova a saltare un avversario ci riesce battistelli il tiro è debole che diventa però un passaggio ancora per gianni ed è 7 a 0 tripletta per francesco gianni nella ripresa e la settimo attenzione a col Antonio che col sinistro può partire il tiro del gol gol della bandiera per il blu ip foresquilla segnato col Antonio ci sono tre giocatori del me gusta si palla in mezzo a cercare il numero 16 baldassari che col colpo di testa va a mettere il pallone dalla parte opposta dal secondo palo di vittorio in mezzo per brunetti brunetti riesce a stoppare poi non controlla attenzione al numero 4 antonelli scarica ancora su brunetti in mezzo per il colpo di testa del 9 a 1 di antonelli 9 a 1 attenzione per di vittorio numero 8 palla in mezzo ancora cercare marini marini le tiro il gol del 10 a 1 il me gusta si arrotonda ancora il risultato 10 a 1 fischia qui arbitro finisce qui il match siamo 10 a 1 e questo risultato finale il me gusta si vince e si porta in seconda posizione in classifica riscavalcando il new team eravamo andati un po' in difficoltà nelle ultime settimane eravamo incappati in due sconfitte che non ci aspettavamo e oggi serviva una risposta di gruppo e l'abbiamo data insomma abbiamo fatto una prestazione importante una partita ben giocata abbiamo messo un po' dei minuti nelle gambe che era un po' che non giocavamo e niente noi puntiamo ancora la vittoria del campionato perché non non ci sentimo inferiore a nessuno l'avversario più pericoloso non si può non si può dire qual è perché sono due ottime squadre giocano bene certo che noi abbiamo la nostra il fatto che dobbiamo fare lo sconto diretto col master football e che loro la settimana giocheranno anche con il new team che secondo me è veramente una squadra molto molto competitiva c'ha ottimi giocatori forse più anche dello stesso master anche noi a ritorno ci hanno battuto quindi siamo uno pari